È stato presentato a Palestro, comune della provincia di Pavia, il progetto Edison Crowd, il nuovo canale attraverso il quale Edison offre a tutti la possibilità di supportare finanziariamente i propri progetti nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Questo progetto nasce un po' da quello che è il motto della Edison. Il motto della Edison è costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile. E' la parola insieme che ci ha un po' ispirato in questo progetto. Quello che abbiamo provato a fare con questa iniziativa è andare un po' oltre, cercando di trovare uno strumento innovativo. Con Edison Crowd per Palestro, i residenti delle province di Pavia, Vercelli e Novara potranno diventare i protagonisti del progetto e del proprio territorio, contribuendo alla realizzazione della centrale mini idroelettrica di Palestro. Di fatto diamo la possibilità a tutti di partecipare alla nuova centrale idroelettrica di Palestro con un contributo che può andare da 100 a 5.000 euro. Dopo di che Edison, dopo 12 mesi, restituisce l'importo con un tasso di interesse che per i residenti delle province di Pavia, Novara e Vercelli è del 7% lordo. E mentre per tutti i cittadini residenti in altre province è del 4% che passa al 5% nel caso di cliente Edison Energia. Per partecipare a questa nuova iniziativa potete andare sul sito www.edisoncrowd.it e per partecipare a questa nuova iniziativa potete andare sul sito www.edisoncrowd.it e per partecipare a questa nuova iniziativa potete andare sul sito www.edisoncrowd.it